Siamo con Edoardo Squilino, autore del 1-0 momentaneo e poi del 3-2 praticamente all'ultimo, quindi partita fantastica, tirata da tutte e due parti. Siete riusciti però a riprenderla praticamente nei secondi finali? Sì, no, ci abbiamo creduto. Era importante portare a casa questi tre punti anche per la classifica. E siamo contenti così, insomma, vittoria sofferta, ma penso più che meritata. Adesso, da come si nota, morale alle stelle, tre punti importantissimi, però comunque bisogna cercare di continuare così. Certo, sì, sì, non dobbiamo interrompere infatti questa striscia positiva che fra il campionato e Coppa, insomma, è tutto perfetto per adesso, quindi dobbiamo continuare così, concentrati, speriamo di fare bene, insomma. Perfetto, io ti ringrazio e vi faccio un bocca al lodo per le prossime. Grazie, grazie.